Guardate, ho un mini drone! Andiamo, forza! Forte! È stato un bel volo! Wow! Posso giocarci anch'io? Compratene uno! Questo è solo mio, hai capito? Oh, ok! Allora ordinerò il mio! Ordinerò un drone da principessa! Pronto? Due droni da principessa, per favore! Grazie! Sì! La mia consegna è qui! Eccolo qui! Sì! Vediamo che c'è qui dentro! Wow! Principesse! Principessa blu, principessa rosa! E voleranno anche sì! Vai! Tornati da me! Tornati da me! Uh! Tornate! Wow! Uh! È veramente divertente! Oh, Sara! Ma che bei droni! Grazie! Questi sono i miei! Posso prenderne uno, per favore? No, sono i miei! Non mi piace questa cosa! Ordinerò i miei droni! Salve! Vorrei ordinare tre droni, per favore! Grazie mille! Grazie mille! Sì! Ah! Il citofono! Ecco la mia consegna! Ah! Diamogli un'occhiata! Uno, due, tre droni! È ora di giocare! Oh! Wow! Oh! Ah! 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 Sì! Ah! Che fantastici! Ah! Ah! Sara ha due droni? Oh! E Alex ne ha tre! Io ne voglio di più! Ecco una scatola piena di droni! Farò volare centinaia di droni su in cielo! Andiamo, forza! Oh! Quanti droni, ragazzi! È così bello! Wow, Jason! Quanti droni! Molto bene! Anch'io ne voglio di più! Ha! È ora di volare! Uh-huh! Wow! Uh-huh! Sono tantissime! Uh-huh! Uh-huh! Ah-ha-ha! Oh! Wow! Ci sono e Sara hanno così tanti droni! Ne voglio di più! È tempo di altri droni! Uh-huh! 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 Quanti droni! Droni ovunque! Che ficata! sì ma adesso ci sono troppi droni penso siano troppi e adesso che faccio no davvero troppi droni sono un poliziotto i prigionieri vanno in prigione ehi uno scivolo qualcuno sta andando sullo scivolo mi sto guardando è una banana deliziosa apriamola è squisita la 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 una banana andrà in prigione vieni qui ehi ehi vieni qui vieni qui forza ehi 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 forza vieni qui cavolo fermati dove vai andrà in prigione signore e perché dovrei per una banana niente banane per terra andrà in prigione andiamo sono in prigione sì in prigione e ci rimarrai in prigione ci rimarrai per tanto tempo ti tengo d'occhio agente di polizia che c'è guarda ci sono le ciambelle ci sono le ciambelle e dove sto per scappare non ho trovato nessuna ciambella aspetta un attimo una moto cosa il prigioniero è scappato dove è andato dov'è 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 il prigioniero dove è andato dimmi l'hai visto oh oh no ho bisogno di un aeroplano troverò il prigioniero andiamo forza lo troveremo insieme ok accendiamolo e adesso voliamo pronto per il decollo pronto per il decollo sì sta volando troveremo il prigioniero mi sto avvicinando ah vedo il prigioniero no no l'aeroplano l'aeroplano non ci credo devo hackerarlo oh no che succede mi sta hackerando il mio aereo no no l'ha hackerato ciao ciao un piccolo elicottero guarda ho un elicottero medio un grande elicottero andiamo andiamo e vai andiamo a giocare sì è il mio piccolo elicottero medio e grande uno due tre questo è un bellissimo elicottero proviamo a pilotarlo wow guardate bene wow ho rotto il mio piccolo elicottero è ora di aprirlo wow guardate questo è il mio elicottero rosso e questo è il telecomando vediamo quanto vola in alto wow sento l'aria che si muove ragazzi guardate guardate che figata non colpirmi è davvero fantastico guardate ragazzi sta andando molto in alto wow wow opsì è caduto oh oh gente ora è il momento dell'elicottero più grande insieme al telecomando più grande è ovvio wow 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 pilotando l'elicottero ne sto andando così veloce wow wow oh no è rotto ragazzi qual'elicottero era il migliore? io dico quello medio io dico quello piccolo no ha fatto il più grande il vincitore è? sì ho vinto che bello il più grande grazie per averci seguito e alla prossima ciao sì vai aereo plano ok lanciamo l'aereo ragazzi oh no il mio aereo oh no ciao Alex oh ciao Jason ha perso il mio aereo me ne dai uno nuovo oh non preoccuparti Jason ne ho uno nuovo proprio qui fantastico Alex giochiamo insieme molto bene andiamo forza prendi Jason wow uno prendi qui Alex ora perché non provi a prendere questo? wow hai tirato troppo forte Alex oh 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 no il mio aereo si è rotto cosa ho fatto? oh mio dio mi dispiace tanto Jason va tutto bene Alex non preoccuparti mi farò perdonare ne ordinerò un altro pronto? vorrei ordinare un nuovo aereo per favore bene arriva subito grazie mille Alex non c'è di che Jason sono già arrivati andiamo forza la cazzina è arrivata oh wow apriamo la scatola let's go un aereo verde evviva forza bene Jason io mi siedo e tu giochi con l'aereo ok? ok ecco il mio nuovo aereo oh no oh no oh no oh no si è rotto non preoccuparti Jason ne comprerò un altro pronto? questa volta voglio due aerei per favore oh sì bene grazie Alex la cazzina è arrivata è arrivato sì forza Jason sì apriamolo forza questa volta ne abbiamo presi due sì pronto Alex e tu sei pronto Jason andiamo forza let's go non di nuovo no non di nuovo che dovremmo fare Alex? sai questa volta ordinerò molti aerei ti fai sì pronto sa questa volta voglio cento aerei gentile mille grazie idea fantastica ah c'è la consegna wow 100 aereoplani ragazzi forza portiamoli dentro siete pronti ad aprire 100 aerei? sì io lo sono Jason 3 2 1 via wow non ho mai visto così tanti aerei prima d'ora 3 2 1 via sì sono 100 aerei wow andiamo a giocare Alex let's go è stato molto divertente Jason grazie mille per averci guardato e per esserti iscritto ciao 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 ciao